Scongiurato il licenziamento per oltre 100 lavoratori del rione Terra di Pozzuoli, finiti in cassa integrazione con scadenza prossimo 26 ottobre. E stop quindi alla procedura di licenziamento collettivo avviata nei mesi scorsi. Tutti i lavoratori saranno reintegrati fino a entrare a pieno regime entro il termine massimo di 52 settimane. La schiarita è arrivata ieri pomeriggio a seguito dell'incontro nella sala giunta della regione Campania Palazzo Santa Lucia, al quale hanno preso parte il sindaco Magliulo, l'assessore al lavoro, l'assessore ai lavori pubblici, i rappresentanti del consorzio rione Terra e delle sigle sindacali. L'incontro pone fine a mesi di proteste e occupazioni vissuti con lo spettro dei licenziamenti. Le parti hanno concordato sulla necessità di preservare il patrimonio di professionalità rappresentato dagli addetti ai cantieri. In tale prospettiva il concessionario delle opere si è impegnato a revocare la procedura di licenziamento collettivo. Soddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno espresso apprezzamento verso il concessionario per la sensibilità dimostrata e sosterranno la scelta dello stesso presso l'Istituto Previdenziale. Gli assessori di intesa con il presidente Caldoro hanno sottolineato che il completamento del rione Terra rappresenta una priorità per la regione Campania, da realizzare nell'ambito di un progetto condiviso ed economicamente sostenibile. Il sindaco Magliulo ha espresso il più vivo ringraziamento al presidente Caldoro per l'interessamento da parte dell'Aggiunta regionale. Riprenderanno quindi nelle prossime settimane i lavori all'Antica Rocca, fermi ormai dallo scorso giugno. Rip executioner Grazie a tutti